La strada provinciale 37 che salendo da Castelli conduce a Rigopiano ed altre località di attrazione turistica come Fonte Vetica, Santo Stefano di Sessanio, Castello del Monte e Farindola è ancora chiusa. Una strada di competenza della provincia di Tenamo che d'inverno viene esclusa dalla circolazione per motivi di sicurezza, ma che viene riaperta in primavera mettendo in collegamento i versanti Terramano, Pescarese e Aquilano. Una mancata riapertura che a detta del sindaco di Castelli, Rinaldo Sega, sta provocando ulteriori danni all'economia del Borgo della Ceramica. È una situazione gravissima, gravissima che al 26 maggio la strada provinciale 37 che conduce a Rigopiano e a Campo Imperatore sia ancora chiusa. Solitamente si programma già la riapertura a Pasqua, appena dopo Pasqua. Posso capire che c'è stata la nevicata, quindi comunque abbiamo tollerato anche la prima parte di maggio, però oggi siamo a fine maggio. La ditta che è stata praticamente l'altro ieri incaricata mi ha detto che comunque farà il prima possibile i lavori, ma comunque sono dieci giorni per poter ultimare, quindi andremo a finire a metà giugno. È un danno enorme perché per noi tutto il flusso turistico che viene dal versante Pescarese e Aquilano sono ormai da anni la maggior parte del flusso dei turisti che si ricaccastelli. Quindi in un territorio che sta cercando ulteriormente di ripartire, perché la pandemia, come sappiamo, si somma soltanto alle tante problematiche di Castelli, è davvero qualcosa di intollerabile. E ieri in un posto ha chiesto scusa alla cittadinanza? Sì, io mi sono sentito davvero di chiedere scusa pur non avendo delle dirette responsabilità, perché la strada è provinciale, però non tanto come rappresante delle istituzioni. Perché penso che bisogna dare anche una speranza a queste persone, cioè io, i cittadini, i ceramisti, i baristi, i ristoratori, cercano nuovamente di mettersi in piedi. C'è anche gente che sta investendo, perché c'è un famoso ristoratore che sta aprendo anche un altro bar, quindi sta investendo davvero, queste persone sono da fargli una medaglia. Invece che cosa vedono ancora una volta? Che lo Stato, che le istituzioni non le sostengono. Perché tutti i giorni mi chiedono, Sindaco, ma questa strada quando riapre, quando riapre, cioè per noi è un danno enorme, per Castelli è un danno enorme, incalcolabile.